e benvenuti in questo nuovissimo video che con voi c'è per sempre il vostro caro nico dei po come sempre per iniziare diamo il benvenuto ai nuovi iscritti e bentornato a coloro che ci seguono sempre ma soprattutto diamo il bentornato alla nostra bellissima robertina che è qui con noi per il nostro fantastico video speciale spacchettamento online sfida ua ha 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 dopo la live la sfida spacchettamento dopo la live fatta insieme del box piripiri andiamo a fare la sfida spacchettamento quindi ragazzoli miei elenchiamo come sempre le regole il punteggio e tanta robina robina perché facciamo la sfida spacchettamento ovviamente è uscita la nuovissima espansione paradosso temporale qui abbiamo ancora gli avanzi della live del box e quest'oggi andava lo spacchettamento online quindi signorina roberta ricapitoliamo il punteggio delle varie carte andiamo yes prenda la lista se no non si ricorda è tutto un casino ce l'ho di fronte appunto ce l'ho di fronte lì è già organizzata vada vada allora abbiamo le hex che valgono un punto esatto poi le full art che valgono due punti esattamente come sempre full art valgono sia pokemon che allenatore ad eccezione della full art della crystal che farà tre punticini full art della crystal come ben sappiamo in questo set abbiamo tante full art della crystal come garchomp come oppa come un sacco di roba ragazzi poi proviamo la gallery che vale quattro punticini la gallery sarebbe la rara a una stella dorata andiamo avanti poi abbiamo le alternative art che valgono sette punticini le bellissime alternative art che tutti amiamo da due stelle dorate e poi non può mancare il nostro goldettino la fantastica gold dieci punticini che vale dieci punticini che può dare manforte a chi è sotto i punti che si spacchetta una bella gold si va a casa ragazzi si va a casa quindi non perdiamo altro tempo alcuno noi siamo carichi come sempre sappiamo cosa vogliamo ci sono tanti video a raccolta adesso andiamo a trovare le carte che c'erano per fare i mazzi quindi andiamo allo spacchettamento ed eccoci qui come sempre sulla schermata dei sogni mai realizzati ma sempre desiderati madonna mamma mia oggi si andiamo ispirati ragazzi e come sempre prima di tutto ci andiamo a spacchettare il nostro bellissimo pass premium non prendiamo questo radicento perché a noi piace spacchettare quindi confermiamo lo scambio delle 1800 gemmine che ci separano dal bellissimo pass e tra l'altro ci sblocchiamo ben 17 livellozzi proprio perché fatemi abbassare il volume perché qua non è che stiamo a giocare stiamo a lavorare dicevamo dicevamo siamo qui col nostro pazzo 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 siamo reduci dalla live noi andiamo subito a lavorare perché ci piace così e andiamo subito subito come andrà questa sfida ragazzi come sempre 5 pacchetti 5 pacchetti 5 pacchetti 5 pacchetti fino ad arrivare alla tanto agognata time limes del time brooks allora non lo so sto scrivendo ma se posso prima di tutto riscattiamoci questi 6 pacchetti con tanta 7 pacchetti che ho detto 6 pacchetti riscattiamo e basta no no va bene così tra l'altro ci regalano il fantastico mazzo buoni questi qua craftini il fantastico mazzo di Runa Ugetti ci regalano un bel morpico 2 funghi furiosi 2 perluna ruggente tanta tanta roba il ratata radicate ha le capsule ovviamente che ci serve la mia amatissima vitalità della professoressa olim tanta roba abbiamo 7 pacchetti siccome sono un signore farò iniziare la mia signora prego non c'è bisogno mi passi tutta l'ambra da ma però va bene non lasciamo al centro vada primi 5 pacchetti per me ragazzi cominciamo così a 3 vado 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 ok unleash sim siege prima reverse gimme gold seconda reverse abbiamo onyx è la rara e il primo pacchetto lo chiudiamo a 0 vado col suo secondo flitter che cos'è quello di prima che abbiamo instillato ah ok nibble quindi perfetto minor minor reverse vediamo che abbiamo dopo wigglet anche questo ho trovato 80 volte e la rara un bellissimo altaria full art quindi abbiamo detto la full art due punticini non è tre crystal quindi due punticini per te vada vada terzo pacchettino andiamo mi è un foo flitter ancora glasscore più o meno simpur tinkatink non è tic tac tic tac e mamma mia va pazza un euro ferro ex quindi si porta un altro punticino a casa è buono per i mazzi andiamo questo è il tuo terzo quarto pacchettino vada vada le ha cominciato come un fuoco incredibile ragazzi incredibile vada vada mino reverse ancora fuoco bellissimo reverse e la rara direi che basta pure andiamo avanti ultimo pacchettino ultimo pacchettino abbiamo pansegg abbiamo trabis e ancora tecnica involuzione croca l'or giustamente abbiamo trovato su coco brisa reverse e la rara è un king che darà olografico direi che chiudi la tua prima match con ben tre punticini messi lì assegno avevo detto di lasciarlo in mezzo ma va bene non ti riesco allora primo pacchetto per me joltik lemurite stennine uuuh reverse di coda urlante carino carino bello l'effetto che fa qui online secondo reverse ma anche da turbo energia e morpico niente andiamo con il mio secondo pacchettino pansear toxel siglizar reverse di corpo sfida questa roba quello che è mia for reverse è la rara di zazian olografico primi sette pacchetti andate ragazzi andate qui abbiamo qualche pacchetto non abbiamo nessun pacchetto ma abbiamo un bel po' di roba da riscattare quindi lo farei così questa ce la riscattiamo tutta l'unfiato tanto non ci sono pacchetti abbiamo due goldango due gaming gaming regular ci danno due gallete un gardero e tanta altra roba letteralmente ci danno il mazzo che a noi fa solo piacere ma noi vogliamo tra l'altro vedi un po' che ci danno qui ci danno gaming goldango un buono così ragazzi bellissimo tra l'altro questa l'abbiamo trovata in live ragazzi e questa è la parte di sopra che ti dicevo che si collegava bellissimo bellissimo vedi si collegano e va bene ora io ho aperto solo due pacchetti vero qui ne abbiamo ben 27 si ah aspetta perché io posso fare così ottieni tutto e facciamo prima e facciamo prima scusa riscatta ricompense se mi devi a cliccare a fare appunto scusami scusate ci metterà tre ore e mezza mi ha fatto qualcosa va bene va bene va bene va bene quindi 300 gemmin 740 di questi la magliettina la magliettina delle donne abbiamo uno squagabilli così così un mio regalato che noi accettiamo l'altro l'altro due chemical alternative bellissima luna ruggente ex alternative ci regalano un altro golden ma ragazzi stanno regalando di tutto dark rye dark rye alternative va bene amoltress questi vengono tutti dai mazzi buono questo terzo amo buonissimo questo il 4x eccola eccola io ragazzi mi sono innamorato di questa bellissima è bellissima anche questa tulipe fantastica poi abbiamo lady quanto e quanto ancora distintivo gold ci regalano un sacco così ragazzi si salivano adorati energia olo tra l'altro tanta roba e qui abbiamo 29 pacchetti da ora inizia la sfida vera e propria io sono a due pacchetti giusto andiamo al terzo pacchettino abbiamo poligon bone sweet simsear snorlax flittle e gollisopotex un punticino per me andiamo al quarto pacchettino mio e abbiamo dot blip bank codavlante ancora in regular va blue reverse dupli interverso e garganacle niente questo è il mio quinto pacchetto questo è l'ultimo si cancellalo questo questo ogni volta ci confondiamo esattamente facciamo così esatto ultimo pacchettino abbiamo gold gible artemia artemia amore ci serve una gold per superare roberta e abbiamo palchia grazie vada avanti vada avanti abbiamo trabis ma spero puoi anche leggere ormai l'ha imparata dopo la live direi che gli ho imparato le memoria uh l'hai chiamata la trovata io contracchiappo pokemon gold iniziamo con 10 punticini per roberta è chiamata è arrivata è arrivata è arrivata la persona sbagliata ma è arrivata vada non capito io vada avanti vada avanti non ci incischino già abbiamo un sacco di pacchettini vada vada ancora elekid vai vai continuo continuo leggi sono le ultime tipo questo sorlux fantastico ah attenzione questa è un'alterna divarta due stelle quindi 7 punticini 7 punticini siamo due gisansetti in due pacchetti ragazzi sto giro rimassato e poi abbiamo un tinglou olografico vai con il tuo terzo pacchettino che mi sta distruggendo questo giro quindi vediamo un po' fai coco mi è un fiafia uff quello vai andiamo avanti prima reversi di snorlax peluche pupazzoso glasscore è la rara eh di basta perché già hai trovato il mondo altri due pacchetti per te e abbiamo orsi buon switch buona la melina va bene spolverino per pulire dopo perfetto la reversi di hot warm perfetto la reversi di pruna buona anche questa è la rara è un Milotic quindi quarto pacchettino direi che qui puoi anche non trovare niente anche se tu vuoi roba sempre buono è vada vada che carino è un gelatino nella caverna che carino vada glice course un 80.000 per già buona carta sul futuro è buonissima la seconda è niente ma va bene direi che sei andata di russo con i due peccatini peccatini andiamo primo pacchetto così primo pacchetto prima carta un luna lungente ex full art due punticini abbiamo due punticini grazie proprio e mo che mi dai dietro niente surski anfora sempre ben accetta la reverse di questa questa reverse e mi ha dato la full art con la prima carta va bene secondo pacchettino abbiamo un ferro set abbiamo un gimme ghoul abbiamo un glice core abbiamo un octillery abbiamo un oxato e abbiamo un niente questo è il mio terzo pacchettino abbiamo ancora gimme ghoul spinda orbitor knuckle reverse reverse e il blu reverse ah bello andiamo un quarto pacchettino amask ramoride telscruel ancora reverse oh questa buona reverse anfora terrestre reverse è sempre buona deoxys ultimo pacchettino per non trovare niente andiamo wiggly perché fai così no lo so mi sai di quelle cose che fanno antemia kit zebstrika e deoxys due volte deoxys non mi sembrava il caso ti sto battendo niente ancora non è detto poter trovare tre gold vada vada pancabù quello pancabù come vuoi un po' campi di piace però c'è una roba abbiamo mille vacchiati apri caccia cacat quello oh pedro full art quindi due punticini giusto full art due punticini mi sa tutto che ti fa non è detto non è detto vai andiamo avanti low dread ancora ancora wish reverse tick attack full art e anche un'arma rouge è incredibile tutti i punti li stai facendo tu che bello andiamo avanti così col terzo pacchetto ferrotorn tick attack più grande tick attack più grande un altro un altro vermicello un altro tick attack più grande e l'altra è un zekrom che è molto forte abbiamo non è forte infatti è ironico vai pancabù l'amico l'amico ancora alla salas la pappa quello là dimmi quello di verso che se è buona no in realtà abbiamo trovato legale niente andiamo col tuo ultimo pacchettino yes vada così vada così andiamo così dove andiamo che ne so non lo so dove andiamo andiamo reversi nible spinda e niente diciamo che ci siamo è così andiamo con i prossimi cinque pacchetti ragazzi andiamo con flittler flittler2 va bene tutti flittler gurgesk kersk melatik reverse deoxyx ancora bastaxi deoxy è un garcion tex una piccola ex punticino non lo sono preso andiamo con eleki andiamo con foecoco sacco ferio basta abbiamo toscuro reverse uuuuh gallery di crustor 4 le galle ci sono 4 punti di che recuperiamo poi abbiamo la niente andiamo col terzo pacchettino andiamo oricorio clouf crocalor dotter reverse giubat della rara e niente un collo ferrio questo è il mio quarto pacchettino questo è il quarto pacchettino ancora fritto ma c'erano 18 a frittella devi dire no non è una frittella è un uccello però è una frittella ipom simsij e chiamo paolo oro questo è il mio ultimo pacchettino e andiamo così vanilis pansiar spazzolini da lenti pedrope ragnetto portami via pedrope e zazian non troviamo mai niente vada 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 spacketting gimme wool ormai 3000 copie pure questa qua in 3000 copie bella ci abbiamo anche la bellissima altra basta il suo spolverino spolverino dublade cluster ok e ok questa volta niente nikit che fai pipag nell'arance buona questa abbiamo giant 2 joltic reverse poi abbiamo wigglet è una bella ex di pel di sabbia una bella ex come è che fa spiro la litrina blu 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 lo vedo io non faccio blu blu esatto ma l'hai fatto prima lodred gabite però se vieni più qua ti vedo io stavo guardando proprio la tua camera perfetto mug b groton 18.000 salze uh mouse hold full art due punticini per lei signorina bello questo mouse hold vada con il quarto pacchettino assattanto che ti batto io vi ho detto hai toccato i pacchetti inutile che speri fin devi ancora combattere uh snorunt gallery si è una gallery 4 punti e vai con l'ultimo punticino l'ultimo va bene va bene raggiungiamo uno a questo 4 questi non c'entrano niente apriamoli per il gusto va bene ok ok taurus che fa sempre cola diglett e va bene abbiamo un'altra 151 no va bene un mix proprio non c'entrano niente con quello che stiamo facendo quindi non calcoleremo ecco il tomato maialino no c'è un colno un colno un peartic capsicint e la rara infatti ne abbiamo trovato neanche niente in questi pacchetti fai fatto vai e andiamo a prendere un altro po' di pacchetti anche perché puoi non andare a ripetere la pokemon ci abbiamo un sacco ancora di un sacco di pacchettini da riscattare grazie ai nostri sponsors allora andiamo a espansioni yes andiamo qui ne abbiamo solo 750 quindi ci possiamo permettere solo questa di gemmine poi ci potremo riscattare un altro bel po' di cocine ragazzi un altro bel pochino vediamo un po' qui ci becchiamo questo una sola l'ultimo pacchettino tu esatto vada vada la frittella perché frittella perché mi sei di frittella tox vada mantello svarfafafafafaf che quello non mi ricordo come si chiama e niente è chiuso così vada vada io mi apro questi due dei pacchettini e andiamo con tic tic e tac nato spolverino abbiamo il quattro per adesso amsol pedrope e deoxys trovo solo deoxys andiamo col secondo pacchettino per me abbiamo un purlon abbiamo buono questo tecnoradar abbiamo un vanillish abbiamo farina ferrea e due farine ferre perfetto mi sembra più che giusto di te no perfetto è così che si fa allora allora ora andiamo a recuperare i codicini dalle varie mail quindi un attimo ragazzuoli arriviamo ed eccoci qui con altri dieci bei pacchettozzi vieni nello schermo se non ti vedono eccomi qua eccomi qua e andiamo io stavo a due due quindi devo aprire il mio terzo yes terzo pacchettino nuggly spinda ticca-tac simsiar la reverse di minor e steelix niente andiamo avanti con il mio quarto pacchettino wishmus natu bambola fucoco ok e la rara è oh una tenia full art che sono ben due punticini poi abbiamo con il quinto pacchettino ultimo per me va bene knuckle stack toad screw abbiamo buono sempre la reverse del piripillo octineri e abbiamo una ex di golismo pod quindi un punticino ce l'ho vada lei con i suoi prossimi cinque pacchettini ok abbiamo combinato un macello non trovo qualcosa che è perfetto eccolo qua vada vada dublade dublade frittella la frittella la zucca l'altra frittella abbiamo fatto la frittella di zucca durante 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 ex patria va bene poi abbiamo dublade ferro quello quello là simipur simipur knuckle ok la reverse ancora di ambipom niente di fatto vada al terzo pacchettino seadra ok poi minion minion abbiamo capsicipsi sfungo sfuriante buona la reverse e l'ora è un po' benenosa questa è un'altra reverse e una bella ex di pelo pubico no peli sani non ho sbagliato a leggere andiamo col quarto pacchettino e abbiamo orsi ancora solcoferio di 30.000 per poi abbiamo il mantello manofesto polifiz una bella capsula reverse questo tempo è buona è meno male che non siamo mai 4 il gatto la frittella e pedro 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 va bene poi abbiamo snocchias yamaschia e niente tutti i tuoi hai trovato i peli qua perfetto i tuoi punti sono due peli ah perfetto grazie perfetto piglia qua piglia qua andiamo con i nostri prossimi 5 pacchettini abbiamo ancora tin kateen abbiamo ancora spiazzare abbiamo ancora todd screw un sasquit reverse un tic e tac reverse un latios le verse andiamo con il mio secondo pacchetto abbiamo frittella poi abbiamo glice score e poi ancora ali rasenti e ancora latios e ancora kien pao e l'ultima è un volcarona e andiamo ancora con il mio terzo pacchetto e abbiamo swablu abbiamo tatsugiri abbiamo capsule del tempo futuro flitton ancora e ancora lokix e ancora deoxys e ancora niente punti per me andiamo con il mio penultimo pacchettino giusto siamo a 4 questo è il mio quarto ancora nardo glice sco iphone non lo so è passato un signore e flores e flores ultimo quinto pacchettino per me abbiamo todd school abbiamo punkaboo e abbiamo tatsugiri abbiamo masquerain abbiamo neglet e abbiamo stevex questo l'abbiamo chiuso senza punticini vada 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 allora che abbiamo qua due due quale si quello quello la minion minion ah quello non so macchina tecnica quella e niente non sta uscendo più niente ragazzi due blade ancora macchina tecnica zebstrike uh scenario per il sort room osso sup e niente altro pacchetto vuoto questi pacchetti tutti vuoto ma grazie di sponsor abbiamo che ci mandano dei pacchetti vuoti abbiamo ted scruel qui abbiamo game pure verso abbiamo porigon e la rara un altro latio sponsor per piacere allora joel tic wigglet ancora abbiamo 80 per di quello abbiamo ancora tinglou abbiamo golbat e abbiamo ancora oh un bombon bimbo un bombon uno chi bombardi ex un punticino guarda ultimo pacchettino seadra poi abbiamo absolo da solo sim se no i rabbi in compagnia c'è ragione gabite la rara è un bel niente chiudi questa un punticino e vabbè andiamo con altre 5 e poi abbiamo un altro 10 e poi abbiamo finito ragazzi allora andiamo il primo pacchettino per me Yamask Leopard Snorlax capsula buona reverse abbiamo un'altra macchina tecnica reverse vcen ancora niente abbiamo crustod surskit coda urlante reverse di crobat reverse di garbazbak e deoxys di quelli golosi e furiosi andiamo a prendere un altro 10 pacchettini ed eccoci qui e abbiamo il mio terzo pacchettino abbiamo Ubaldo grande Ubaldo tinka tinka togskul torniamo seri mailotik togskul e ancora reverse ivelta ancora niente e niente il mio quarto pacchettino flittol cercadet pedro bonsuit gravantula e va va quello ultimo pacchettino per me andiamo porigone 2 bambola snorlax velusa cercadet mi dai qualcosa a joltic la rara e niente ragazzi non mi vuole dare niente abbiamo gli ultimi diciamo pacchettini l'ultima fila da 10 ragazzi quindi ultimi 5 pacchetti per l'operta abbiamo mantain abbiamo gligar abbiamo tulipa e abbiamo avipon abbiamo gavite e abbiamo un mano ferrea ex quindi un punticino per roberto andiamo poi fibas ancora tulipa e crocolaor e ancora muskraine ultimi regolars simsage ed ancora niente vai col tutto terzo pacchettino char cadet nakli sterene abbiamo artemia le resti di gliscor e la rara un'oppa ex un altro bel punticino vai con gli ultimi due pacchetti di questa sfida ormai sappiamo che hai stravinto però ci proviamo vendiamo galbodor poi abbiamo lì su ponte le versi ferroton gallery quindi la gallery abbiamo detto 4 punticini 4 punticini è una stella o sono due una stella quindi si 4 punticini vai col tuo ultimo pacchetto direi che hai stravinto però decisamente ultimo pacchettino per te gabite tinka tinka spolverino ormai 3000x 11 reverse fabiano simsage e la rara un palchia direi che hai fatto il tuo andiamo con gli ultimi miei 5 pacchettini e poi andiamo al conteggio ragazzi abbiamo miltank lkit caps charcadet toyscrew e reverse quindi niente o luna ruggente una ex un punticino ce lo portiamo a casa meno male siamo a 3 su 4 non so che abbiamo anche l'attenti quindi il mazzo lo possiamo fare andiamo col secondo mio pacchettino abbiamo wigglet ancora doxel vitalità della professoressa ormai 30.000 per anche questa stilix reverse oh morpico gallery anche per me 4.5 ma questo morpico è bellissimo in mezzo ai 12 che mangia è la rara sì praticamente sì è un colpo ferrio ora andiamo a riscattare gli ultimi altri tre pacchetti ultimi tre pacchetti in questa sfida ragazzi vediamo se riusciamo a recuperare con questi ultimi tre pacchetti loaded magby gliscor gligar reverse odice niente abbiamo ultime due possibilità ragazzi ultime due possibilità boneswit maintain veluza nikit abbiamo due ball eo una scenario del professor rotto room full art quindi due punticini giusto ultimo pacchettino della sfida ragazzi vediamo cosa succede gabite durant cyclizard collo ferrio reverse edge trash reverse la rara è niente ragazzi v c'è e direi che con questo ultimo pacchettino possiamo fare possiamo fare possiamo andare a fare i conteggi per vedere chi ha vinto questa fantastica sfida ed eccoci qui ritornati ragazzi purtroppo purtroppo doveva andare così la robertina ha trovato di tutto e di più infatti vince la sfida con il doppio dei punti che ho fatto io perché siamo io a 19 e lei a 40 ragazzi c'è letteralmente 21 punti in più di me qui abbiamo la prova scritta e firmata da entrambi i giocatori in realtà non è firmata però è scritta ragazzi qui sono scritti tutti i punteggi i punteggi potete vederli anche voi dal video e così ragazzi ci ha letteralmente stracciati detto all'inizio vinco io vinco io e così è stato ragazzi quindi io con mal in cuore vi saluto e vi ringrazio che siete stati qui con noi facciamo i complimenti a robertina per aver vinto quest'altra sfida e noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi non perdetevi i prossimi video perché abbiamo set allenatore un sacco di roba ragazzi un sacco di roba quindi noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti da me è la robertina ciao 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 Grazie.